cari amici voi che vorreste cambiare il mondo fate tutto il possibile per contribuire quale paure vi frenano quali scuse trovate pretendete che il mondo cambi e non fate nulla vi lamentate del mondo in cui vivete e ne siete parte trascinante osservo medito e deduco basterebbe iniziare a creare il vostro personaggio sfidando gli altri personaggi o accogliendoli in voi o con voi o contro di voi la neutralità non è sinonimo di evoluzione se pensi di essere evoluto allora manifestati affinché possa riconoscerti ciao il mio nome è Pinocchio vengo dal paese della fantasia geppetto era mio padre e madre non ebbi se non un tronco di ciliegio ora che sono diventato uomo sono confuso e non comprendo il mondo degli umani accetto il tuo invito e mi schiero sarò quello che difende gli animali oppure posso essere quello che si dedica al volontariato quanti personaggi potrei essere ma qui voglio essere me stesso in fondo questo è un mondo virtuale dove tutti possono fare finta di essere quello che non sono